Salve a tutti, sono Alfonso Molina, direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale e in questo breve video vi parlo della RONCAP 2019. Il titolo di questo anno è Humanity at the Crossroads, Robotics, Artificial Intelligence and Life Sciences. L'importanza di questo anno è che abbiamo mobilizzato tutti gli attori rilevanti dell'ecosistema della robotica italiana a cominciare dalle scuole elementari verso l'industria, l'università, centri di ricerca, si è coinvolto INEIL, Invitalia e tante altre istituzioni del mondo della robotica. Pertanto sarà una grande celebrazione e aspetto di vedervi a tutti voi la prossima settimana in questo grande evento.